I ragazzi sono stati fantastici, capaci di coinvolgerti in tutto quello che è il programma di intrattenimento. Lo disfruté muchísimo, fui a casi todos un'esperienza unica. Mi sono divertita in tutta l'attività che è stata al bordo. Grande livello per quelli che sono gli spettacoli e anche per i bambini ottima. Giocano e si divertono con altri bambini. Ieri mi sono emozionato vedendo lo Space Party in galleria. It's still fun, it's still interactive and we make it safe for everybody to enjoy the shows. We'll see you on board, take care and stay safe. We'll see you on board, take care and stay safe. Grazie 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 Grazie